A pagina 172 del nostro libro di storia cominciamo un nuovo capitolo affrontando la politica coloniale fascista. Siamo giunti a metà degli anni 30 e Mussolini vuole dare inizio a una politica di espansione coloniale in Africa ai danni dell'Etiopia, che era in quel periodo governata dal Negus, un imperatore, che si chiamava Haile Selassie. L'obiettivo del Duce era di dimostrare a livello internazionale la solidità interna del regime e la sua efficienza militare e insieme offrire posti di lavoro per la mano d'opera italiana. Inoltre l'Etiopia confinava con le colonie ancora preesistenti dell'Eritrea e della Somalia ed era uno dei pochi stati rimasti indipendenti. Nel 1935 le truppe italiane in Eritrea e in Somalia varcarono il confine etiopico e per tutta risposta la Società delle Nazioni dichiarò colpevole l'Italia di aggressione e applicò nei suoi riguardi delle forti sanzioni economiche, provvedimenti cioè che imponevano il blocco della fornitura delle armi, il rifiuto di prestiti di qualsiasi genere e il divieto di acquistare merci italiani. In questo periodo nasce l'impero dell'Africa orientale italiana. Dopo solo sette mesi, nel 1936, il 9 maggio, Mussolini poteva annunciare la fine della guerra e la costituzione di un impero dell'Africa orientale italiana. Fu quello il momento di maggiore popolarità per il duce, al quale fu attribuito il titolo di fondatore dell'impero. Con questa guerra, in cui il regime aveva utilizzato metodi feroci nei confronti della popolazione indigena, rappresaglie, esecuzioni sommarie, fino alla vera e propria carneficina del 19 febbraio 1937, avvenuta ad Addis Abeba, Mussolini aveva dimostrato che la violenza poteva essere facilmente imposta anche fuori dall'Italia e il suo comportamento offriva a Hitler un precedente e una giustificazione per la politica di espansione che stava intraprendendo negli stessi anni. Ed è proprio grazie a questa impresa, l'impresa d'Etiopia, che si verificò infatti un avvicinamento sempre più stretto fra l'Italia fascista e la Germania nazista. A pagina 179 potete vedere dunque una cartina che rappresenta la politica di espansione in Africa che era già cominciata nel 1885 e nel 1896 con la conquista dell'Eritrea e della Somalia che abbiamo già studiato, con la stessa Libia nel 1912 quando vi era il governo Giuditti e adesso siamo giunti al momento in cui nel 1936, il 9 maggio, le truppe italiane raggiunsero la capitale Addis Abeba dell'Etiopia costringendo alla fuga il negus. Grazie a tutti. Grazie a tutti.